Francesco Provolo è il nuovo prefetto di Pescara. Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno Angelino Alfano ha approvato il movimento di 14 prefetti, tra cui Provolo che arriva a Pescara dopo l'esperienza alla guida della prefettura di Rovigo. 62 anni, nato ad Ottaviano in provincia di Napoli, sposato con tre figli, Francesco Provolo vanta una lunga esperienza ed è già stato in Abruzzo, in particolare all'Aquila, dove ha ricoperto l'incarico di viceprefetto Vicario. Stesso ruolo svolto anche a Caserta, dove è stato anche capo di gabinetto e capo della segreteria particolare del prefetto, in carico ricoperto anche a Potenza. Provo l'esperienza anche in materia ambientale di inquinamento fluviale, essendo stato coordinatore del Comitato Permanente in Materia, esperienza che sicuramente sarà importante in una città e in una provincia come quella di Pescara. Nel suo curriculum ci sono diverse gestioni di comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, Casa Penna, Grazzanise, Casal di Principe, Orta di Atella e Leini, oltre a numerosi incarichi di gestioni commissariali in comuni ed enti pubblici. Francesco Provolo prende il posto lasciato da Vincenzo D'Antuono, che a fine settembre è andato via dalla prefettura adriatica per raggiunti limiti di età.